Sicuramente è stato uno dei migliori in campo nel match di sabato scorso tra la polisportiva futura e l'arco baleno ispica. Suoi sono stati i 5 degli 8 gol che hanno permesso alla squadra espicese di vincere la partita per 8 a 7. Suo è la gol che a 3 secondi dalla fine ha permesso di espugnare il palazzetto dello sport di Lazzaro con una pennellata tirata dalla sua aria che si è stampata all'incrocio. Con questi 5 gol arriva 9 gol in stagione ed è il capo cannoniere del girone H del campionato futsal di serie B. Stiamo parlando del giovane Leonardo Costamagna che abbiamo intervistato al microfono di Piero Giunta. Ascoltiamo. Una prestazione maiuscola sabato scorso dell'arco baleno ispica contro la capolista polisportiva futura con 5 gol di Leonardo Costamagna. L'ultimo tuo euro gol ha franzito la vittoria. Leonardo, cosa mi dici? Sì, sì, la possiamo definire giustamente così. Un'arco baleno ispica una vittoria maiuscola per noi. È un campo dove è molto difficile da giocare. Una gara che è stata molto coba tutta. Non c'è mancato grinta. Abbiamo creduto due inizi alla fine. Mi ha messo tanto cuore. Siamo stati premiati con il gol a tre secondi alla fine. Diciamo che la fortuna è che cammino insieme con chi lavora tanto. Ho provato a tirare però aspettavo una deviazione del compagno di un anniversario. Però alla fine è andato direttamente. Sono rimasto molto felice e molto contento per i gol. Però principalmente per la vittoria della squadra che ci ha portato tre punti importantissimi guardando la classifica in un campo dove è molto difficile da puntuare. Secondi in classifica ad un punto dalla vetta. L'arcobaleno con Leonardo Costamagna. Quest'anno può sognare la fede a... Vediamo come continua a camminare la stagione. A questo inizio di stagione stiamo dimostrando di essere una squadra forte. Una squadra che dipendente da dove gioca. Gioca sempre a cercare a vincere o a portare punti a casa. Dobbiamo continuare così. Pensare partita dopo partita. E poi alla fine del campionato facciamo i conti e vediamo quello che ci aspetta in futuro. Dobbiamo pensare giorno dopo giorno. Non possiamo dire ora che lo possiamo sognare con la Serie A. Quindi pensiamo partita dopo partita. Pensiamo al prossimo sabato che abbiamo una partita in casa sempre difficile contro AC Reale. e vediamo cosa ci porta il campionato alla fine. Leonardo, l'arcobaleno è una squadra giovane. I tuoi compagni hanno la tua stessa età guidati da due allenatori esperti quali Marfello Mittelman e Fabio Lorefice. Adi Spiga, come ti stai trovando? Adesso posso dire che mi sto trovando molto bene. I ragazzi mi hanno accolto molto bene dal primo giorno che ci siamo visti. Finora non ho niente da lamentarmi. Era un ambiente bellissimo da lavorare. Fabio li ha cresciuti ragazzi così come una famiglia. Loro portano questi fino a oggi. Mi hanno accolto molto bene. Posso dire che sono anche io parte di questa famiglia. C'è il mister Marcello che con le sue capacità tecniche a livello del futsal ci aiuta tanto, ci insegna tante cose. E posso dire solo questo, che mi sto trovando bellissimo, benissimo che l'ambiente qua è bellissimo. Ringrazio Leonardo Costamagna, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.